Marco Polo followed the necklace of Oasis Towns, now controlled by the Mongols, on the southern rim of the forbidding Taklamakan Desert. Le genti qui vi sono musulmani. Essi vivono di mercantanzia ed arti. Tutto lo necessario per la vita di un uomo è in grandissima abbondanza. As a merchant, Marco Polo is always looking for opportunities to trade. As a young Italian male, he's also looking for other opportunities. Le donne, esse sono tanto belle, tanto sua denti, e sempre pronte ad intrattenere. non l' fees complete. Non ci si resta si resta da zona. Rarely innocent. Non acontece existence. Non trasily diantan. begins tективi.